Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventinovesima puntata del podcast di Marcosbox. Buon ferragosto a tutti quanti se mi state ascoltando giorno 15, buone feste fatte se mi state ascoltando nei giorni successivi. Spero in ogni caso che siate o abbiate trascorso una felice giornata in compagnia dei vostri cari amici e quant'altro. Cominciamo questa settimana parlando di LibreOffice. In settimana Document Foundation ha annunciato il rilascio della versione 6.3 di LibreOffice. Questa nuova mail release ricca di nuove funzionalità offre prestazioni migliori, prestazioni che sono state migliorate di un ordine di grandezza nell'apertura e nella gestione dei file sia di writer che di calc. Offre alcuni ritocchi nell'interfaccia grafica, per esempio è stata aggiunta una nuova opzione chiamata a schede compatte nell'interfaccia notebook bar, una nuova interfaccia. La notebook bar più compatta, più carina e anche più immediata nell'utilizzo, io lo sto già utilizzando. Sono state fatte alcune modifiche a calc. È stata aggiunta il supporto all'esportazione nel formato PDF A2, richiesto da diverse organizzazioni per la conservazione sostitutiva dei file. È stata anche aggiunta la possibilità nei documenti in formato PDF di modificarli per nascondere e rimuovere informazioni sensibili prima di esportare o condividere in file, per aiutare poi le organizzazioni a ottemperare alla normativa sulla privacy dei dati sia a livello europeo che a livello locale. È stata poi aggiunta la modalità console della versione per Windows. Infine, cosa molto importante, è che l'interoperabilità con i formati proprietari di file Microsoft Office è stata migliorata in diversi punti, sia con i documenti di testo, che nei fogli elettronici, che nelle tabelle pivot, ma anche nei file PowerPoint, PPTX. Quindi, un ottimo lavoro da parte del team di LibreOffice che, oltre ad averne migliorato le prestazioni, ha migliorato con questo rilascio anche la compatibilità, che non fa mai male. Perché, come ben sapete, una delle principali critiche viene fatta a LibreOffice e punto questa sua, diciamo così, alcuni problemi di compatibilità che si ha con i formati proprietari, con questo rilascio si va incontro, si cerca di risolvere questo problema ulteriormente, quindi si sono fatti nuovi passi in avanti per migliorare l'interoperabilità. L'aggiornamento è disponibile per Ubuntu e derivate tramite il PPA dedicato, in alternativa potete rimuovere la versione installata dai repository e scaricarvi quella presente sul sito di LibreOffice, perché vi ricordo è disponibile in formato dev, quindi ve la scaricate e ve la installate. Se cercate su Marcosbox vi spiego anche come farlo in qualche vecchio post. Ed è questo aggiornamento disponibile anche su, già da adesso, nei repository di Mangiaro Linux. Quindi, se siete su Mangiaro, avete già la versione 6.3. se siete su altre distribuzioni, potete comunque, distribuzioni basate su RPM, potete scaricare, anche in questo caso, gli RPM dal sito di LibreOffice e andare a installare su Fedora o, che ne so, OpenSUSE. Quindi avete tanti modi per poterlo installare. L'importante è che andate a installare. In settimana è stata poi rilasciata la versione 18.04.3 di Ubuntu. Che cos'è? Sapete bene, ogni tot tempo, dopo il rilascio di una LTS, vengono rilasciate delle point release. Le point release cosa vanno a fare? Vanno a fornire dei supporti di installazione, quindi delle ISO, aggiornate con tutti quanti gli aggiornamenti, fino a quel momento, rilasciati per la versione LTS di Ubuntu e viene poi aggiornato, viene fornito l'aggiornamento dello stack hardware che viene backportato dalle release semestrali di Ubuntu di volta in volta. Quindi questa nuova versione, questa terza point release di Ubuntu 18.04 LTS fornisce lo stack hardware backportato da Ubuntu 19.04. Questo significa che viene fornito il kernel Linux 5.0, anziché la versione 4.15, che era quella inclusa al momento del rilascio su Bionic. Poi viene fornito anche, oltre a questo, le versioni aggiornate di X.org e dei driver grafici open source. Potete scaricare la visual giornata direttamente dal sito di Canonica, sia per Ubuntu che per i suoi framework ufficiali, quindi Ubuntu, Ubuntu Bagi, Ubuntu Mate, Ubuntu, Ubuntu Kirin, Xubuntu. E inoltre, se provenite da una vecchia installazione di Ubuntu e volete aggiornare kernel, quindi lo stack hardware completo, kernel, X.org e tutto il resto, e compagnia bella, potete farlo e sul blog trovate le istruzioni su come farlo. Il procedimento è abbastanza indovre, quindi non dovreste incontrare problemi. La scorsa settimana ho lanciato l'appello ai voi lettori per la nuova rubrica del blog chiamata Il mio setup. Sono già arrivate per questa settimana in corso due condivisioni. La prima è quella di Mauro, che ha mostrato la sua installazione di Kali Linux e la sua macchina, e successivamente è arrivato anche il primo post, diciamo quello alternativo, perché ve ne accorgerete, andate a vedere sul blog. È quello di Attilio, di Radio Linux, non so se vi ricordate qualche tempo fa sono stato anche intervistato dai ragazzi di Radio Linux, che utilizza Debian 10 sul suo iMac del 2006. Ecco perché dicevo che l'installazione è strana, perché spesso e volentieri chi compra un Mac lascia il sistema operativo dell'Apple, il sistema operativo proprietario dell'Apple sulla sua macchina, mentre c'è il sistema operativo dell'Apple. Nelle prossime settimane troverete altri setup, perché in questi giorni me ne sono arrivati già un altro paio, li ho programmati per il lunedì, quindi ho deciso per adesso di metterlo a cadenza fissa settimanale ogni lunedì. Ne ho altri due puntate, quindi state pronti lunedì 19 e lunedì 26, che sono pronte già per altre due puntate, vi invito a condividere la vostra postazione informatica inviandomi il tutto, o tramite e-mail o contattandomi su Telegram o contattandomi su Facebook, fate voi, a voi la scelta del mezzo. potete anche mandare un piccione viaggiatore con le informazioni, quindi sono reperibili quasi ovunque. Vi fa molto piacere che questa rubrica sia stata ben accolta dalla comunità. Passiamo adesso a un rilascio della settimana, un rilascio di un programma che ha cambiato nome, Gnome MPV, che è praticamente un frontend GTK di MPV, viene aggiornato alla versione 0.17 e cambia nome diventando Celluloid. Andatevi a vedere le informazioni relative a questo programma, potete installarlo fin da subito tramite Flatpak, in alternativa dovete aspettare l'aggiornamento dei repository della vostra tristo. Vi consiglio di installarlo da Flatpak se volete provarlo fin da subito, perché è in modo più semplice. Altro programma che va a cambiare nome è Fpacman. Ve ne avevo parlato nelle scorse settimane di questo nuovo tool di Mangiaro per la gestione grafica di Flatpak e Snap, che a partire dalla versione 0.5.1 cambia nome, cambia nome e diventa BAU, proprio scritto BAU, B-A-U-H, è una parola portoghese che si pronuncia proprio BAU e significa BAU, nell'idea del creatore del software, quindi inteso come il luogo dove puoi trovare tutte le tue cose immagazzinate e i pirati, che i pirati non guastano mai, mettono proprio all'interno dei BAU, quindi c'è anche questa doppia lettura. Il nuovo repository è stato creato, il vecchio con il nome vecchio verrà mantenuto ma non più aggiornato, quindi è ancora presente ma non verrà più aggiornato. La prima versione di BAU è già disponibile su AUR, quindi se volete Instagram, su Mangiaro o su Arc Linux potete farlo da AUR. Interessante questo tool, l'ho visto, è semplice ma è immediato. In settimana poi ho pubblicato una piccola, diciamo così, recensione, che poi recensione non si tratta, perché ne ho soltanto parlato per sommi capi, di Fogliate. Che cos'è? È un semplice e moderno ebook viewer basato su GTK, costruito su GJS ed EPUB.js. Le caratteristiche principali sono la visualizzazione dei formati EPUB, MOBI, AZW e AZW3. È possibile visualizzare il formato in due pagine, oppure a vista scorrimento. È possibile personalizzare il font, l'interline, i margini, la luminosità, la modalità, luce, seppia, scuro, il cursore di avanzamento della lettura con i segni di capitolo, segnalibili annotazioni, cercare all'interno del libro, ricerca rapida su Wikizionario, Wikipedia o traduzione del testo con Google Translate, GESI del touchpad, quindi è un ottimo software che offre tante funzionalità, è molto, 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 molto semplice da utilizzare, non va a sostituire Calibre, quindi se siete amanti di Calibre e avete la vostra raccolta di ebook che gestite con Calibre, questi sono due software completamente opposti, perché Calibre fa tante cose in più, questo è soltanto un visualizzatore. se avete gli e-pub, se avete sulla vostra distribuzione gnomecentrica dei file e-pub che volete aprire a voi, installando lo fogliate, li potete aprire a voi e potete gestire, potete anche riprendere la lettura dove eravate rimasti, ha le funzioni in base, però fatte bene, fatte semplici, fatte in maniera essenziale, che non guasta mai. È possibile installarlo tramite i deb per Ubuntu e derivate, in alternativa potete installarlo tramite Flatpack, quindi aggiungetevi FlatTab e installate, fogliate da FlatTab. A voi la scelta, io personalmente sulla mia Ubuntu 19.10, sì perché avete capito bene, so da qualche tempo sulla versione in sviluppo di Ubuntu, dicevo sulla mia Ubuntu 19.10, ho preferito installarla dal deb, tanto i rilasci non sono frequenti, se siete iscritti a GitHub potete seguire lo sviluppo e potete mettervi la notifica dei nuovi rilasci e aspettare quando viene rilasciata una nuova versione, scaricarvela e testarvela. Ultima notizia della settimana, me la sono lasciata per ultima perché è molto importante, dopo ben 4 anni e 5 mesi di lavoro, il team di XFCE ha annunciato il rilascio di XFCE 4.14, nuova versione stabile e famoso desktop environment leggero, che tutti quanti apprezziamo. Ho visto tantissimi utenti che nel corso del tempo li hanno provati tutti quanti desktop environment, ma alla fine continuano a preferire XFCE e continuano a installarsi XFCE anche sui loro super mega iper potenziati computer, perché preferiscono questa leggerezza, questa immediatezza, questa possibilità anche di personalizzare perché è molto flessibile XFCE e quindi è davvero uno dei più apprezzati, soprattutto per quelli della vecchia guardia. I punti salienti riguardano migliorire nel gestore delle finestre, che ha avuto una serie di aggiornamenti di funzionalità, inclusi il suo supporto per i Vsync, usando preset OpenGL come back-end per ridurre il problema dello sfoglio del display, il supporto HDPI, il supporto GLX migliorato con i drive proprietari Nvidia, il supporto per Xinput 2, vari miglioramenti del compositore e un nuovo tema predefinito. Il pannello poi ha ottenuto il supporto per la funzionalità del monitoraggio principale di RANDR, un migliore raggruppamento delle finestre nel plugin e nell'incoattività. I desktop ora supporta la funzione di monitoraggio principale di RANDR, top R di mezzo, lo sapete che c'è questo problema. È stata creata una finestra di dialogo nelle impostazioni completamente nuove per gestire i profili di colore, la finestra di dialogo del display ha ricevuto molta attenzione durante questo ciclo di sviluppo, nuove funzionalità, è stata aggiunta un'opzione per abilitare il ridimensionamento della finestra GTK nelle finestre di dialogo, aggiungi il supporto per Ribid Slip, Tuna, Refine Manager, ha ricevuto molte funzionalità e correzioni, tra le modifiche visibili ci sono per esempio il fatto che la barra del percorso adesso è completamente rielaborata, il supporto per le miniature più grandi, il supporto per i file folder .jpg e tante cosine qua e là. Migliorate poi i centro applicazioni, i power manager, i servizi di notifica, il player multimediale parola ha ricevuto un supporto migliorato per lo streaming di rete e podcast, nonché una nuova modalità mini, il visualizzatore di immagini ristretto ha visto vari miglioramenti dell'interfaccia utente e supporto per l'impostazione dello sfondo del desktop, miglioramenti anche nel tool per fare gli screenshot, il gestore degli appunti ha migliorato il supporto per le scorciatoie da tastiera, il plugin plus audio del pannello ha ricevuto il supporto M-PRIS2 e poi qualche modifica anche ai vari goodies, quelli che venivano chiamati, che sono praticamente delle aggiunte a XFSE per aggiungere funzionalità, alcuni sono stati rimossi, non vengono comunque rimossi del tutto ma vanno su una specie di archivio, vengono mantenuti in soffitta all'interno dei sorgenti di XFSE quindi volendo si potrebbero anche installare successivamente. Tanti miglioramenti, andatevi a fare un giro su Marcosbox dove trovate il changelog completo e troverete anche il link al tour, praticamente andate su questa pagina e a breve, perché attualmente ancora non è stato postato, trovate una panoramica di tutte le varie funzionalità, davvero una release interessante, ci ha messo tantissimo tempo per venire fuori, speriamo che sia apprezzata dagli utenti XFSE e non solo. Bene, con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo, anzi ci risentiamo la prossima settimana con la nuova puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!